E' perfetta per una discesa dalla vetta, sopra quelle rocce spettacolari, sopra le foreste. Il panorama è fantastico, dovrebbe uscirne un video pazzesco per il tuo canale. Ah, dimenticavo, la sfida che si sono inventati gli altri rider non è niente male. Grazie a tutti. Oggi ce l'ha proprio con me. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti